Siamo in collegamento con Maurizio Acerbao, come ben sanno i nostri ascoltatori, segretario di Rifondazione Comunista Sinistra Europea. Maurizio, benvenuto, bentornato, buongiorno. Buongiorno. Senti, con te vogliamo ricordare una figura del mondo della cultura, ma non solo, cito Mastelli, scomparso nella giornata di ieri. Sì, per noi si tratta di una grande perdita. Come ho scritto, non solo il cinema e la cultura italiana hanno perso un grande protagonista, un grande autore che è stato con i suoi figli, che nella battaglia culturale è davvero una figura centrale dal primo dopoguerra fino ai giorni nostri, ma anche la sinistra ha perso uno dei suoi intellettuali più coerenti e noi di Rifondazione abbiamo perso un compagno del nostro partito che ne è stato uno dei fondatori e ne ha rappresentato fino all'ultimo giorno e lo spirito, all'ispirazione di fondo, una delle figure più esemplari. Citto è stato ragazzino antifascista e parte della Resistenza, 14 anni entrato nelle fila del Partito Comunista italiano e ha rappresentato un'idea di comunismo che l'accomunava a Pietro grau democratica e libertaria. Ricordo che Citto è stato un autore che ha saputo raccontare anche con un autentico capolavoro il film Il Sospetto, l'epopea dei comunisti sotto il fascismo nella clandestinità con una bellissima interpretazione di Gian Maria Volontè, ma che è stato in grado anche di scavare dentro quella storia con spirito critico. Lui era molto contento perché alla prima del film Luigi Rongo, che era stato dalla Spagna all'Italia il principale organizzatore e comandante comunista e poi segretario del Partito Potogliatti, si alzò in piedi ad applaudire e lui aveva proprio seguito le indicazioni di Longo con Paolo Spriano nello scavare nella storia del Partito Comunista. una visione laica quella di Citto della storia che ha fatto sì che proprio perché affezionato a una tradizione di libertà, per usare l'espressione di Ingrao, Citto non fu tra quelli che nel 1989 di fronte al crollo del muro di Berlino e dei regimi dell'Est fece abbiure. Citto fu tra coloro che organizzarono la lotta per dire no alla liquidazione del Partito Comunista e fu tra i fondatori di rifondazione, proprio perché quella storia l'aveva vissuta con spirito critico e orgoglioso della originalità della via italiana al socialismo, dell'indissolubile nesso tra socialismo e democrazia che aveva caratterizzato la storia del Partito Comunista italiano. Vorrei ricordare Citto come un compagno che non è mai diventato un ex, mai uno che ha parlato al passato ma sempre ha guardato davanti. Quando parliamo della politicità del cinema di Citto dobbiamo tenere presente che questo c'era non solo nelle pellicole più direttamente politiche. Ieri la RAI, e questo va riconosciuto positivamente, ha trasmesso il suo capolavoro del 1986, Storia d'amore, che segnò l'esordio di Valeria Golino. In quel film c'era una politicità molto forte, anche se non espressa attraverso un tema direttamente politico, ma attraverso la capacità e il desiderio di raccontare la realtà nelle sue contraddizioni e non accettarne la rappresentazione egemone. Anche lì nel raccontare la periferia di Roma, la vita di giovanissimi proletari, Citto non rientra nel solito schema a cui siamo solitamente abituati. Ne racconta anche la forza, la storia, l'autonomia. Citto non è mai diventato un ex, ci tengo a dirlo. Citto ha sempre guardato dentro al presente e in avanti. Io vorrei ricordare che fu lui a organizzare più di 30 registi per essere a Genova nel 2001, parte del movimento e per raccontare il movimento dei movimenti. Ne venne fuori il film Un mondo diverso e possibile. Proprio ieri me l'ha ricordato con una bellissima lettera di saluto a Citto la nostra compagna Idì Giuliani, la madre di Carlo, ricordando come appunto Citto ha avuto la capacità di raccontare, di essere parte del del movimento e portare altri grandi autori. Ne cito solo uno che fu anche iscritto al nostro partito, Mario Monicelli, a essere parte di quel movimento insieme ai giovani. Citto fu anche a Porto Allegre, al Forum Sociale Mondiale, proprio perché non è mai diventato un re, fino agli ultimi giorni. Giorni è sempre stato partecipe non solo della vita del nostro partito, ma di qualsiasi lotta e mobilitazione nel campo della cultura, come del sociale e della democrazia. Voglio citare due fatti proprio di queste settimane. La sua richiesta di avere la tessera dell'Ampi, di rinnovare la tessera dell'Ampi. Lui partigiano, un ragazzino, perché mai come in questo momento scrisse che c'era bisogno di antifascismo nel nostro paese. Il fatto che lui sia tra i primi firmatari, e mi ha aiutato anche a raccogliere adesioni, è l'appello del collettivo di fabbrica della GKN di Campi Bisenzio, a sostegno della lotta degli operai per salvare la fabbrica, il lavoro, rispetto alla delocalizzazione e ai tentativi di chiudere quella fabbrica. Invece è proprio il 25 marzo, ci sarà una manifestazione a cui invito tutti a partecipare perché sarà un modo per essere a fianco a Citto ancora una volta. Senti Maurizio, come vedeva gli ultimi anni, come giudicava gli ultimi anni politici dell'Italia con la nascita di alcuni movimenti, penso ai 5 Stelle, con lo sviluppo del PD così come lo abbiamo avuto. Citto ha condiviso sempre la linea che noi abbiamo portato avanti dalla nascita del PD, cioè quella dell'alternatività al Partito Democratico, ha sempre espresso un giudizio molto critico sullo spirito che ha animato la nascita del PD con Veltroni, a cui pure lo legavano a un'antica militanza comune nel Partito Comunista, ma fu molto critico. Ricordo che in un'intervista in cui faceva un bilancio del suo 68, ricordava allora, proprio perché era un'occasione di quell'anniversario nel 2008, che il PD nasceva rinunciando al conflitto di classe e che rappresentava anche sul piano culturale la negazione della storia di cui veniva. Credo che Citto abbia sempre pensato che ci sia bisogno di una politica che sia anche cultura. La storia di Citto è la storia di un comunista che è cresciuto nel partito di Gramsci, quindi se la critica nei confronti del Partito Democratico è sempre stata radicale, Citto è stato sempre in prima fila nelle lotte per la Costituzione, per la difesa dello Stato sociale, dell'articolo 18, dei diritti di lavoratrici e lavoratori, per il pubblico. Anche nella cultura Citto è stato molto critico perché ha sempre difeso il ruolo del pubblico rispetto alla tendenza alla privatizzazione, ad affidare la cultura al mercato e alla mercificazione. Tra l'altro ricordo che la moglie di Citto, la nostra compagna Stefania Braia, la responsabile cultura del nostro partito e con lei Citto ha sempre fianco a fianco proseguito nell'impegno per un ruolo del pubblico forte nella cultura che si è perso e anche sulla comunicazione. Voglio ricordare che Citto è stato molto critico rispetto alla riforma della RAI fatta dal PD ai tempi del governo Renzi che ha affidato la RAI, il controllo della RAI al governo sottraendola al Parlamento. Da questo punto di vista ci lascia un'eredità di elaborazione politica e culturale che davvero è un patrimonio a cui credo si debba attingere per ricostruire la sinistra nel nostro paese. Voglio ricordare che Citto come Ingrao è stato per anni un comunista non ortodosso, innovatore, però al tempo stesso a partire dagli anni 90 ha ricoperto un ruolo di contestazione del cattivo nuovo che veniva avanti, di questo nuovismo che per gran parte ha visto la ex sinistra italiana fare proprie le ideologie e il punto di vista di quello che un tempo era l'avversario. Un tempo c'era una grande sinistra di popolo, di classe e di massa che aveva una sua autonomia culturale e in Italia per gran parte è stata distrutta non dagli avversari ma da chi avrebbe dovuto portarne avanti l'eredità. Rispetto a tutto questo Citto ha resistito, non poteva ovviamente essere un fan di forme qualunquiste di politica perché anche nella lotta per il cambiamento Citto credeva che fosse fondamentale avere un approccio fortemente radicato in un punto di vista critico forte, anticapitalista, quindi credo che la distanza tra il militante e l'intellettuale militante che è stato Citto Maselli e fenomeni come il Movimento 5 Stelle ovviamente era fondamentale fortissima. Senti, torniamo all'oggi, l'ultimo saluto a Citto Maselli. Domani sarà possibile salutare Citto alla sala della protomoteca in Campidoglio, ringraziamo il sindaco per averla messa a disposizione e ci saranno interventi di compagni e amici di Citto. Quindi dalle 10 alle ore 13 sarà possibile salutare Citto nella sala della protomoteca e ovviamente invitiamo a partecipare. Maurizio, a meno rimane che ringraziarti. Ringraziamo il segretario della Rifondazione Comunista Sinistra Europea, Maurizio Acerro. Grazie. Ciao, ciao Cristiana. Grazie.